Ventottesima giornata del campionato di Serie A, contrassegnata dal sorprendente Espload di Pesaro al Forum di Assago. Due punti incredibilmente importanti che rilanciano i marchigiani in chiave salvezza, rigettano Milano in mezzo alle polemiche, le fanno perdere il primo posto e indirettamente spingono ulteriormente Capodorlando, battuta a Venezia, verso il Baratro. A proposito dei Lagunari, continua senza soste la crescita della squadra di coach di Raffaele. E' poi una partita che ci garantisce uno dei primi due posti, che non è una cosa da poco. E quindi adesso la cosa importante è recuperare energie e vedere Stefano cosa si è fatta alla spalla perché non riusciva a giocare. Recuperare energie e prepararci per mercoledì per questo grande appuntamento. Però ripeto, è una partita che è andata come volevamo perché siamo stati bravi comunque a indirizzarla dove volevamo. Perché comunque era una partita, poteva essere una partita insidiosa. In zona playoff, oltre all'inarrestabile ascesa di Trento, quinto posto blindato e attacco alla quarta piazza di un Avellino in piena crisi, sconfitto in casa anche da Sassari, prosegue la battaglia per la conquista degli ultimi tre posti disponibili. Cinque le squadre ancora in corsa, con Varese, Cantù e Virtus Bologna avvantaggiate, anche per i due punti in più. Ma con Sassari e Cremona, forti degli ultimi successi rispettivamente in Irpinia e con Brescia, sempre in agguato. Fuori dai giochi, chi l'avrebbe mai detto a inizio stagione, Reggio Emilia e Torino. La De Flex, lo ricordiamo, è ormai salva, brindisi, anche se continua a perdere, quasi. Mercoledì sera alle 23, giovedì alle 19, su Sporti VL, canale 193, c'è terzo tempo con tutte le interviste di tutti dopo gara da tutti i palazzetti. Da non perdere!